L'assessore Panariti, Welcome Day per la Sissa, un'istituzione fondamentale per Trieste e per tutto il Friuli Venezia Giulia. Certamente è una giornata importante in cui si accolgono gli studenti e le studentesse che vengono a studiare qui per il dottorato di ricerca, per assegni di ricerca, quindi un percorso che mette insieme la Sissa con le università regionali e con i centri di ricerca per un network regionale di eccellenza che è davvero importante. Lavoro, formazione e ricerca, la regione sta lavorando molto sul fare sistema di tutto questo. Infatti, come spiegava il professor Ruffo, nuovo direttore della Sissa, le relazioni sono fondamentali, quindi le relazioni tra i diversi punti del sistema sono quelle sulle quali noi investiamo. Gli investimenti sono cresciuti sul sistema universitario e stiamo costruendo proprio un percorso, un insieme di relazioni, un insieme di progetti molto importanti che vanno nella direzione di far crescere il territorio. Ci sono progetti appunto tra la Sissa, tra le università, con i centri di ricerca, con i parchi scientifici che vanno nella direzione di studiare le malattie più devastanti, di avere possibilità di grandi calcoli e di grandi ricerche. La regione è vicina a questi progetti perché intorno a questi progetti si costruisce il futuro della regione.